Consigliere Comunale Cioni, Schiocittà Capoluovo, Centro Sociale Arcadia, a quando lo sgombro del capannone comunale, occupato abusivamente da oltre tre mesi. Invito il Consigliere Comunale Cioni a dare lettura dell'interpellanza. Prego. 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 Bisogno dircelo, siccome l'anno scorso è inutile che stia qua a ricordarvelo, anche se a volte da alcune espressioni che sento credo che ci si dimentichi quello che sia accaduto anche in termini di gettito delle entrate della pubblica amministrazione, perché continuare a chiedere di mettere più soldi bisognerebbe dire anche dove andare a prenderli, per correttezza e onestà intellettuale. Anche quest'anno le cose non sono migliori, perché se non ci fossimo aggiudicati dei bandi ministeriali o dei bandi regionali, grazie al lavoro e alla fatica degli ultimi anni, avremmo un bilancio sul piano degli investimenti molto risicato rispetto alle previsioni, perché l'anno, quest'anno, si è sbloccato verso aprile-maggio. Quindi sarà difficile, a meno che non escano dei bandi, a supportare questo, che anche quest'anno riusciamo a stanziare quelle risorse che abbiamo in programma per la digitalizzazione. Per fortuna il programma della digitalizzazione diventa un tema dei ricoveri importanti e sembra che i comuni siano i diretti e giudicatari di questo tipo di finanziamenti. Detto questo, l'anno, giustamente per essere chiari e sempre trasparenti, di preavviso e quindi di scadenza del contratto era fino aprile di quest'anno. Noi ci stiamo comportando ora, quest'anno il problema della crisi c'è per tutte le associazioni culturali, c'è stato il blocco fino a giugno, e tutte le associazioni culturali, senza nessuna esclusa, hanno goduto di quelli che sono i sostegni nel pagamento degli affitti. Tutte le associazioni culturali, perché noi non possiamo fare distinzione. Se uno è scritto come associazione culturale, quando facciamo un piano di sostegno per il pagamento degli affitti, come avevamo condiviso tutti, si finiscono dentro tutti. Quindi, riconoscendo quello che è stato il momento di crisi, anche nell'individuazione di una nuova ubicazione, abbiamo deciso di non essere intransigenti in questi mesi. Ma abbiamo invece aperto anche una discussione, ci sono stati anche alcuni incontri, nei quali sono state individuate anche delle soluzioni. Di questo, adesso, o dopo il mese di agosto, andremo a trarre delle conclusioni. Però, quello che voglio ribadire è che, a prescindere dalle posizioni ideologiche, l'amministrazione comunale agisce nei confronti di un'associazione iscritta regolarmente all'albero del Comune, come altre associazioni e altri enti pubblici che hanno lo stesso tipo di rapporto, hanno avuto lo stesso tipo di rapporto, con la pubblica amministrazione stessa di Schio. Per quanto riguarda, comunque, visto questo momento di presenza all'interno dello stabile, dell'organizzazione di un convegno al quale hanno partecipato alcuni consiglieri comunali, sono d'accordo con lei, l'amministrazione dovrebbe essere l'amministrazione, a prescindere dal ruolo di maggioranza o minoranza, che si riveste, libertà per tutti, però sapendo che si rappresenta un'amministrazione comunale. Io lo dico sempre ai membri di maggioranza, quando voi agite, ricordatevi che agite sempre, ma non siete più voi stessi, ma siete una pubblica amministrazione, rappresentate una pubblica amministrazione. Possono esserci del distingo di idee, ben venga nel distingo di idee, perché nel confronto che c'è la crescita, anche se si arriva a discussioni accese, ben venga meglio ancora, perché vuol dire che ci si crede, però sostenere quasi una violazione, questo è troppo. Sì, ha lezioni, si vuole fare la replica? Io sarò breve anche perché mi sono promesso di non fare polemica e non voglio fare polemica, anche perché voglio dire, insomma, su questo tema è evidente che abbiamo delle posizioni un po' distinte e distanti, perché io devo dire che qua non si tratta di impostare la partita su un piano ideologico, perché il sindaco, tra l'altro meglio di me, perché è stato seduto in questi banchi ben prima del sottoscritto, quando si è trattato negli anni passati con le vecchie amministrazioni di concedere degli spazi a questi ragazzi, le sei associazioni che hanno sottoscritto un accordo con il comune di Schio, per poi dare il pretesto dell'apertura del centro sociale, fu definito non dal sottoscritto, ma da chi si era seduto in questi banchi, appunto una foglia di fico, per nascondere in realtà quello che era un altro progetto, che era quello appunto di un classico centro sociale politicizzato, ideologizzato con tutti i carismi che conosciamo. Io l'ho detto tante volte, viva il centro sociale Arcadia nella misura in cui riescono a trovare uno spazio privato, se lo pagano come qualsiasi tipo di altra associazione politica, che fa politica, senza ottenere nessun tipo di sconto e di privilegio nei confronti delle altre associazioni similari alle loro. Io non ho mai pensato che loro non abbiano il diritto di fare politica, anzi, anzi, meglio che ci siano associazioni come queste i movimenti giovanili come loro. Stimolano anche il dibattito e il confronto politico, però è evidente che io ritengo che sia la loro presenza all'interno dello spazio comunale, l'ho sempre detto in tempi non sospetti, perché la storia del centro sociale nasce con una serie di occupazioni nell'alto vicentino, nasce a occupazioni fatte nel comune di Tiene, nella città di Tiene, le occupazioni fatte nel comune di Schio e l'ultima venne fatta nel 2007 davanti a stazioni di treni, adesso nell'edificio nel quale si trova lo studio legale, conosciamo tutti, e deve poi sapere appunto il percorso con l'amministrazione per concedere questo spazio comunale che trovò i contrasti, i forti contrasti nell'ambito del centro-destra, anche della tua e sindaco, anche per i soldi che furono spesi per sistemare il capannone, insomma, se dovessimo fare la storia, ma io non voglio appunto, come dicevo prima, fare poi, io mi auguro che venga ripristinata la legalità, che nel comune l'amministrazione non cede ai ricatti, perché siamo di fronte ai ricatti, non si possono paragonare le associazioni culturali della città, le associazioni sportive della città, a chi minaccia di non abbandonare l'immobile e essere un'alternativa, perché veramente io non ho mai sentito altre associazioni a Schio iscritte agli albo comunali che hanno minacciato l'amministrazione, io no, non l'ho mai sentito, come se ci sono informazioni diverse, farà più piacere saperelo, questo è il fatto che loro hanno pubblicamente minacciato che senza navaglia dell'attiva non avrebbero abbandonato l'immobile, tant'è vero che stanno organizzando una serie iniziative con un chiaro intento politico per legittimare la lavorazione. Non ho ben capito se è stata avviata la procedura di sfrattum, prevista dal codice di procedura civile, mi auguro di sì, perché altrimenti sennò i tempi si allungano, altrimenti rischiamo veramente che questi qua non si levino più da quelli immobili, se non si trova da questa parte della barricata un'amministrazione decisa, ferma, non disponibile, assente a compromessi con chi usa le minacce e anche la forza, in altri casi, per portare avanti le proprie. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS